Torna a Cenacon, martedì alle 20.45 su Rete8 Sport, sempre dal Bar Profeta, questa sera con Max Busellato. Max, grazie per aver accettato il nostro invito, racconteremo la tua carriera, racconteremo tanti aneddoti, ma che cosa è successo con le ali che parlavate prima del rigore? Mi ha detto che non pensavo che mi fossi presentato, in realtà mi sono presentato proprio con lui, gli ho chiesto dove si buttava, ma non me l'ha detto. Non te l'ha detto, però non hai cambiato nulla, hai fatto cosa. Ho tirato più forte che potevo, è andato bene. Questo e tanto altro, martedì alle 20.45 su Rete8 Sport, a cena con Max Busellato.